Linea calcio, subito il numero di telefono da lasciare lì fisso in sovraimpressione come vostro riferimento per intervenire in diretta e per alimentare la nostra chiacchierata in una serata di Champions, di grandi emozioni, così come ci sono state in campo anche ieri sera nel match vinto dal Chelsea sul Borussia Dortmund, non senza polemiche e quello invece vinto nettamente per 5-1 dal Benfica sul Bruges, dunque Benfica e Chelsea che accedono ai quarti di finale della Champions League, due avversari che sarebbero, possiamo dirlo alla portata del Napoli che intanto i conti li farà il prossimo mercoledì in casa con l'Eintracht di Francoforte invece questa sera ci sono in campo il Milan sul campo, sul terreno di gioco del Tottenham di Conte e poi il big match di Monaco di Baviera dove il Bayern ospita i miliardari del Paris Saint Germain partendo da una situazione di vantaggio, i bavaresi erano riusciti a spuntarla al Parco dei Principi di misura per 1-0, piatto fortissimo naturalmente anche nella programmazione di Canale 8 perché a partire dalle 21 noi tiriamo la volata a Tony Avarone che farà punto centrale con i suoi ospiti all'interno dello studio centrale di Canale 8, saluto anche quanti ci seguono sulle pagine social della nostra emittente quindi sarò pronto a raccogliere anche il loro input riprendiamo la chiacchierata dopo il talk di inizio settimana ne parliamo il lunedì nel quale abbiamo sviscerato tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la prima sconfitta stagionale interna del Napoli ad opera della Lazio di Maurizio Sarri che poi ieri è caduto, Lazio che è caduta per mano degli olandesi della Zed Alkmarin Conference League quindi ecco, alla fine sì, la Lazio è stata bravissima, Sarri ha pensato una gran partita ma sono convinto che ci sia messa anche la gamba non proprio brillantissima del Napoli anche quel pizzico di sfortuna negli episodi che avrebbero potuto quantomeno far chiudere in parità la partita in quel caso lì nessuno si sarebbe strappato i capelli vado subito a salutare il mio nostro amico e quindi idealmente facciamo un balzo dall'altra parte del mondo c'è Valerio Fluido Celentano da New York ciao Valerio, come stai? molto bene, Silvio, un abbraccio a tutta Canale 8 con colori ufficiali, con indosso colori ufficiali del Napoli sotto c'ho pure i colori semi ufficiali perché spesso siamo in rosso con cose di San Valentino quindi ho preferito, se poi io mi lamento e poi lo indosso io per primo non va bene quindi, azzurri sì sì, azzurri sono partito facendo riferimento alla sconfitta con la Lazio la vogliamo chiudere definitivamente questa parentesi ricordo naturalmente che si è trattato della quarta sconfitta stagionale già questo dato fa pensare quanto eccezionale sia la stagione del Napoli e guarda caso tutte e quattro le sconfitte maturate con assenza di Mario Rui dirai, vabbè, è un talismano è un talismano, più che un talismano è una soluzione tattica perché abbiamo visto quanto è importante nello sviluppo Mario Rui è il professore, il maestro è stato indicato da Spalletti come un fine dicitore per quanto riguarda una regia esterna che poi può diventare anche interna insomma è una soluzione quando lo Botka non riesce a trovare il pallone un Mario Rui che alza la testa subito e che cerca anche il movimento di Osemen o anche i vari scambi con Kvara Schelia e Zielinski da quella parte è un lusso per questo Napoli e non averlo fa male manca, manca Sì, e ti dico intanto con il notiziario di giornata che Lozano ha lavorato a parte per un risentimento Osemen non si è allenato è stato premiato dalla stampa estera come la più grande esplosione di uno sportivo, di un calciatore qui in Italia e poi le voci che si moltiplicano abbiamo cominciato in netto anticipo perché c'è l'elenco Bayer Monaco, Paris Saint Germain Real Madrid, Manchester City, Manchester United addirittura ci sarebbe già stato un incontro con l'entourage del Paris Saint Germain al quale avrebbe preso parte il procuratore di Victor Osemen che dice finirò sicuramente a giocare in Premier League però per ora la priorità è vincere lo scudetto o provare a vincere tutto con il Napoli io ti dico la verità, io non mi scandalizzo perché fa parte dei giochi se tu sei una pippa non ti cerca nessuno diciamoci le cose come stanno se sei forte è naturale che tutti ti vengano a far la corta se lo dovevamo aspettare nel momento in cui un giocatore ti segna quasi un gol a partita e siamo lì è chiaro che tutte le grandi squadre europee si interessino e il ragazzo si è bloccato un attimo tutto no però ti vedo ci sei allora sta risistemando il suo collegamento Valerio intanto saluto Luigi Assante che urla il suo eterno Forza Napoli Mesami scrive ciao Silvio una domanda allora sarà la morte del calcio in riferimento alla vicenda Juventus allora ragazzi la Juventus non può fare altro attraverso i suoi legali è tornato intanto Valerio che fare appello ad un eventuale vizio di forma il ricorso, un vizio di forma per presentarsi davanti al collegio di garanzia del CONI il fatto però che si vada a cercare il fatto stesso che si vada a cercare il vizio di forma e non elementi per strutturare una difesa per discolparsi dai reati che sono abbastanza evidenti e contenuti in fogli sparsi in giro tra 15.000 pagine e la dice lunga su quello che è il quadro delle cose e del calcio italiano cosa mi scandalizza allora intanto tra poco proveremo a far chiarezza su cos'è questo documento per il quale la Juventus ha avuto il via libera d'altar del Lazio nell'ottica dell'appuntamento dinanzi al collegio di garanzia del CONI ma quello che mi scandalizza parto dal presupposto che gli interessi sono troppo alti gli interessi sono troppo alti quando gli interessi sono troppo alti un intero sistema si muove a difesa dei propri stessi interessi però il fatto che le istituzioni politiche nazionali e le istituzioni del calcio non abbiano non si siano fatte sentire per dire siamo tutti quanti categorici nel condannare reati e dolo dovessero essere acclarati e invece pare che tutti abbiano preso un'altra posizione a tutela della società che muove più soldi in Italia io credo che sia veramente molto molto triste il quadro poi entreremo nel merito della vicenda cosa ne pensi Valerio dall'altra parte del mondo anche perché opinione in giro per il mondo è tranciante è tranciante e oramai è partita che adesso questa situazione si possa risolvere perché hanno trovato il cavillo tecnico e questo non va a loro favore o meglio potrebbe aiutarli perché vince l'unica cosa che conta ma loro con questa soluzione non ci dicono noi siamo innocenti come parte della narrativa ha provato anche a dire parte della narrativa siamo innocenti e quindi confondendo quello che la definizione di plus valenza con quello che effettivamente hanno fatto come sistema un'altra parte della narrativa ha provato a dire lo fanno tutti così fanno tutti e quindi perché solo noi e adesso si arriva alla risoluzione non dicono noi siamo innocenti ma non ci troviamo con i tempi poi andiamo nel dettaglio non ci troviamo con i tempi perché per stabilire la difesa ci sono dei mesi per lo mezzo e quindi hanno trovato era l'unico modo per uscirsene e trovare era trovare il cavillo tecnico resta grave la situazione e resta una macchia che come nel passato rimasta la macchia un'altra che poi ecco hai fatto bene a chiarire ma questo per chi non conosce le dinamiche della giustizia sportiva il collegio di garanzia del CONI non entra e non ha il potere la forza la facoltà di entrare nel merito della questione cioè il merito della questione rimane quello rimangono fatti acclarati su comunicazioni della procura della Repubblica di Torino alla giustizia sportiva attraverso le quali comunicazioni ritenute talmente clamorose per le quali la procura federale ha riaperto un fascicolo che in prima istanza era stato archiviato chiaro? quindi il collegio di garanzia del CONI non entra nel merito della questione ma sui vizi di forma e allora riepiloghiamo prima di andare dal primo telespettatore che è in linea il TAR ha disposto TAR del Lazio ha disposto l'accesso ad un documento che potrebbe rivelarsi decisivo questo documento è datato 14 aprile 2021 praticamente in questo documento la COVISOC chiede alla procura federale alcune interpretazioni legate al caso Plus Valenze l'organo di vigilanza segnala alla procura cosa fa? segnala alla procura alcune fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo tutto molto chiaro perché era la stessa questione per la quale in prima istanza si arrivò poi all'archiviazione c'è poi la risposta della procura federale che ha fornito indicazioni interpretative alla COVISOC in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società una carta che era rimasta inaccessibile fino alla sentenza del TAR del Lazio il procuratore federale Chinè aveva respinto questa richiesta spiegando che quella nota non fa parte della documentazione acquisita nell'ambito del procedimento disciplinare in sostanza si tratta di una mera questione tecnica ma che comunque potrebbe risultare decisiva secondo la difesa il 21 aprile 2021 andrebbe indicata come data di instaurazione del procedimento e quindi secondo i tempi previsti dall'iter del processo che sono 30 giorni per iscrizione della notizia e in apposito registro e 60 giorni per la durata delle indagini sarebbero inutilizzabili gli atti di indagine successivi dal 14 luglio 2021 ovvero tutti gli atti che hanno portato alla riapertura del processo è chiaro penso di essere chiaro non vogliono non vogliono ritengono non fosse giusto che gli elementi nuovi acquisiti sulla scorta dell'inchiesta del fascicolo prisma a Torino in ambito ordinario tanto clamorosi potessero essere ripresi utilizzati dalla procura federale per riaprire il procedimento in ambito sportivo tutto qui cioè non è che perché si è letto il tar grande vittoria della Juve come a dire no mi avete infangato non ho fatto niente non è vero non è quello la sostanza è un'altra è un vizio tecnico e solo ad un vizio tecnico avrebbero potuto insomma far leva per provare a cambiare le cose ma ripeto il collegio di garanzia del CONI non entra in merito nello specifico dei fatti della sentenza o no Valerio è così fa sorridere insomma che qualcuno proverà a non capire o farà finta ancora di non capire quello che dobbiamo pensare è che probabilmente ci verranno anche a dire che poi la penalizzazione avuta durante il campionato li ha depressi e quindi ha influito e quindi si parlerà di campionato falsato e lì noi dobbiamo essere bravi a ricordarci e a ricordare che il 5 a 1 viene prima dei fatti e che il Napoli ha dimostrato sul campo di essere superiore a tutta la Serie A e non solo alla Juventus quest'anno e quindi non provate a sminuire quello che ha fatto il Napoli quest'anno e quello che sta facendo e deve continuare a fare ma è evidente che le cose 14 mila pagine Silber 15 mila perché mille sono le integrazioni con le dichiarazioni di Dybala dell'ex dirigente Lombardo che era l'uomo dei contratti Silurato sai quando perché sto al suo racconto agli inquirenti quando praticamente lui si dissociò per la vicenda su Arez perché non gli andava giù e fu Silurato dalla sera alla mattina in 9 secondi e poi anche un revisore dei conti figura importantissima naturalmente perché il bilancio passa da lì e insomma ragazzi sono 15 mila pagine tutto il sistema sostanzialmente il sistema ha cominciato a raccontare come avvenivano le cose ora quello che mi stupisce è la parte dei tifosi obnubilati dei tifosi con i paraocchi ma scusate se è il sistema stesso che racconta come andavano i fatti ma perché voi dovete prendervela con magistrati con l'opinione libera io ho anche una risposta a scagionare questi tifosi perché la stampa all'auta prebenda ha grosse grossissime responsabilità caro Valerio sì siamo d'accordo su questo al telefono chi c'è pronto Napoli oh caro Ernesto ciao buonasera auguri a tutte le donne a tutte le tifose del Napoli alle tue donne un saluto al tuo amico tutto bene e anche mi hai abbandonato nel giorno più importante e ieri avevo bisogno di rifiatare un pochino scherzo scherzo hai fatto benissimo allora prima cosa un cazziatone vai allora quest'anno abbiamo messo tre partite mettetevelo in testa con la cremonita abbiamo pareggiato poi siamo stati eliminati a calci di rigore le hai detto anche a lunedì sera hai ragione hai ragione quindi poi non so se vale il pareggio come sconfitto almeno uno due preparatevi due salvatore caiazza perché mi dovete una pizza voi a me perché li stanno salvando per l'ennesima volta perché in Italia perché facevamo la scommessa che li salvavano se vi ricordate no ma non ti preoccupare non ne fanno niente Silve io sono tranquillissimo stai tranquillo l'unica cosa che dico noi di Fusano di Napoli dobbiamo restare uniti da sabato si deve cantare 90 minuti sostenere il nostro unico amore è bello lo dovevo dire ieri sera voglio fare gli auguri al nostro mister festeggiando con lui in tanti modi aspetta aspetta ci prepariamo te li faccio fare in diretta cioè ci colleghiamo con con Spalletti così gli fai gli auguri per i suoi 64 anni se non sbaglio 64 64 ecco è pronto il Fabbro il Fabbro è pronto 46 46 ha fatto la battuta Silve quando sono andati a fare gli auguri i tifosi penso a Castelvoltur lo dicevano sono 46 e ha salutato un po' grande mister quindi mister cento di questi giorni tanti auguri a Gianluca Grava che dire ha fatto 43 anni e tanti auguri a me che ieri ne ho fatti 48 tanti auguri Ernesto con un grandissimo regalo la maglietta del Napoli subito personalizzata con il nome del Ciolito ah hai scelto il Ciolito io lo amo il Ciolito hai capito è questione proprio identitaria di riconoscersi in un giocatore piuttosto che in un altro bravo Ernesto era Amsic non c'è più ma ho scelto il Ciolito mi sono immediato di lui il Ciolito ha uno spirito tremendista quindi anche io mi ci riconosco un po' da granata imperterrito in uno come Simeone quindi nel salutarti non dire più che abbiamo perso quattro partite ma ne abbiamo perso tre giusto e mi raccomando sui balconi ho fatto grazie che mi hanno inserito una donna di me mi ha ricordato mia figlia per il quattro a Don Vivera eh erano d'accordo eh in particolar modo Montervino erano d'accordo ma ci ho dato male signori amici tifosi del Napoli vestigli azzurri sul balcone uniti a distruggere questo sistema forza Napoli ciao grazie Ernesto ancora auguri per i tuoi 48 anni eh come leggi come si legge da fuori dall'Italia questa cosa che è paradossale no di uno stadio della squadra che guida il campionato uno stadio che sta in silenzio eh io sono sono amareggiato perché perché è un peccato e subito sono stato contattato da amici che erano allo stadio che mi hanno segnalato la cosa perché poi fa male quando quando non c'è l'ultra amici che erano in curva B quindi perché ricordiamo che la curva A è generalmente tesserata quindi gli ultrali ci sono quelli della curva B hanno hanno accusato un pochino il silenzio e poi si sente il mugugno se la partita non non sta andando bene si sente più mugugno che l'incitare poi sottolineiamo che a fine partita si sono si sono incitati i ragazzi c'è stato il coro di non mollare però è chiaro che è una situazione delicata perché da una parte c'è c'è grande fermezza nel non fare entrare tamburi nel non fare entrare bandiere nell'evitare qualsiasi tipo di illegalità e siamo d'accordissimo poi però vediamo bombe carta che entrano e vengono lanciate dal settore ospiti questo poi diventa inaccettabile allora io spero che si possa arrivare a una a una comunicazione chiara a degli incontri che siano rivolti all'unione totale serve l'apporto del pubblico sì io l'ho messo tra i quattro punti cinque punti che hanno portato poi alla sconfitta con la Lazio sicuramente un motivo tecnico sicuramente un motivo tattico è mancato un po' di ritmo ma forse è mancato anche l'apporto di un San Paolo Maradona che molto spesso diventa e può diventare quest'anno lo sta dimostrando un uomo in più quindi spero che ci sia un incontro tra De Laurentiis e quelli che sono i rappresentanti del tifo organizzato non si amano i due i due elementi però per il bene del Napoli spero che si faccia più presto adesso si potrà tornare in transfert secondo me lì rivedremo lo zoccolo duro di chi canta al di là del risultato per tutta la partita è proprio così va bene Valerio allora facciamo che ci ritroviamo dopo Napoli-Atalanta che sia partita del riscatto lo speriamo sul serio è importante perché sarebbe ancora più importante di una vittoria qualsiasi perché il Napoli ha stabilito questo vantaggio questo distacco importante il Napoli se le può permettere due o tre sconfitte però non averle consecutive perché poi ti porta un pochino a perdere delle certezze e quindi sarà una partita dura l'Atalanta picchia lo sappiamo l'andata ricordiamoci l'andata com'è andata e facciamo un ritorno alla gra e allora ci ritroveremo martedì così faremo anche la preview della sfida all'Eintracht di Francoforte che è su tutte le furie i politici tedeschi tutti arrabbiati sono tutti arrabbiati incredibile sono tutti arrabbiati chi va per tribunali mamma mia mamma mia il pallone pare sia diventata l'ultima cosa peccato nel mondo del calcio un abbraccio fortissimo amico mio ciao Silve un abbraccio a tutti ciao ciao grazie a Valerio Fluido Celentano noi ci fermiamo break pubblicitario poi di rientro andremo da Maurizio Zacco eccoci rientriamo in diretta tra pochissimo andremo a presentare anche l'impegno del circolo canottieri Napoli in un match super atteso di pallannuoto sfida alla Rarinantes Florenzia per il secondo posto nel girone sud della 2 ma prima saluto Maurizio Zaccone ciao Mauri come stai? tutto bene buonasera a te Silve e agli amici che ci seguono da casa ben trovato vecchio Zac noi siamo persone di parola e magari anche per questo forse a qualcuno possiamo piacere poco anche perché amiamo regole, leggi e sentenze questo questo è praticamente battuto nel granito nel marmo il nostro mantra eh sì ciò detto questa mattina su invito del presidente della commissione sport del comune di Napoli Gennaro Esposito e della vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino hai partecipato ad un sopralluogo allo stadio Maradona per verificare la situazione dei posti riservati alle persone con disabilità impegno che ti sei preso in maniera forte e decisa dopo quanto di deprecabile successe qualche tempo fa a scapito di poveri disabili che furono praticamente bypassati e impossibilitati ad assistere allo spettacolo calcistico ci puoi eh rendere conto di quello che è successo questa mattina sì stamattina in sostanza si è andato a verificare lo stato dei lavori non lavori perché è stato appaltato un lavoro per gli settori distinti che permetterà l'ampliamento di 100 posti in più alle persone con disabilità deambulanti perché mi duele dirlo ma il Maradona è l'unico stadio d'Italia che non distingue l'ingresso fra le persone con disabilità deambulanti e in carrozzina questo distingue necessario perché ovviamente è più semplice accogliere una persona con disabilità che deambula come lavori da fare adattamenti strutturali rispetto a quello in carrozzina e permangono i soli 44 posti nella tribunetta dedicata che sono i più bassi in Italia sia in rapporto alla capenza sia in senso assoluto sono stati appaltati assegnati questi lavori riannunciati oggi ma in realtà erano stati annunciati già due mesi fa dovrà seguire un iter burocratico io però nonostante apprezzi tanto la sensibilità di questa amministrazione di lavorare in tal senso perché ha operato e sta operando per migliorare questa situazione ho dovuto anche fare i miei appunti le mie dimostranze sia davanti a loro sia pubblicamente e cerco di riassumerle brevemente ti erano già fatti degli ampliamenti per le persone con disabilità 60 posti 30 in curva A e 30 in curva B e sono quei posti a cui tu facevi riferimento la risoluzione di quel problema sarebbe stata estremamente semplice bastava semplicemente eliminare le prime due file avanti a questi ragazzi in carrozzina in modo che anche se si alzavano in piedi dalla terza fila il disabile in carrozzina avrebbe potuto assistere allo spettacolo invece la situazione è stata che da quel momento da quelle riprese quei posti non sono stati più messi a disposizione non sono più stati venduti perché giustamente io dico il calcio a Napoli si è reso conto dell'impraticabilità di poter offrire un servizio decente e io ho chiesto ai responsabili del comune perché non si è provveduto istantaneamente a rimuoverli o a mettere anche una striscia no perché è un paradosso è un paradosso Zac cioè questi 60 posti nei fatti non li abbiamo mai visti tranne che per quella vergognosa figura di Napoli Ajax dopodiché ci sono questi 100 posti nel settore distinti per i deambulanti perché si aspettano questi lavori perché bisogna installare dei bagni adatti alle persone con disabilità a me fa piacere che si stiano facendo questi lavori si adeguino tutti i settori il paradosso è che però i settori delle curve inferiori già hanno i bagni per le persone con disabilità quindi parlo sempre di quelli deambulanti basterebbe assegnare una porzione delle curve inferiori a 150 persone deambulanti e avremmo occupato altre 150 posti attualmente in quella mini tribunetta di 44 posti che a volte non è nemmeno stracolma ci sono persone con disabilità in carrozzina e persone diambulanti già se crea un distinguo riesce a contentare più persone e riservare almeno quei 44 posti solo a quelli in carrozzina sono suggerimenti che però io faccio da mesi francamente poi non sono riuscito ad avere risposte chiare a soluzioni che a me appaiono semplici l'ultima e chiudo qui è stata quella che ho detto del parcheggio perché come tu ben sai nel settore antistante della tribuna femmine c'è un parcheggio riservato ai giornalisti alle persone con disabilità e all'autorità se non sbaglio punto che la parcheggiano un po' tutti e davanti ai miei occhi è capitato di vedere un genitore con un bambino di 7 anni in carrozzina che non si alzerà più da quella carrozzina dire la terza volta che vengo allo stadio adesso lo parcheggio da 3 km le altre due volte pur avendo il biglietto pur essendo riuscito a vincere la lotteria del biglietto sono dovuto tornare a casa perché il parcheggio era stracolmo basterebbe dare disposizioni alla polizia municipale che l'ingresso a quel parcheggio è subordinato o a un ingresso in tribuna stampa o a un ingresso nella tribuna diversamente abili cioè subordinata al biglietto cioè una persona con disabilità non può arrivare là e trovare il parcheggio pieno deve avere il posto riservato è una cosa abbastanza semplice però purtroppo alle volte sembra che siano parole al vento però io devo ringraziare sempre il fatto che mi sia stato permesso di dirle queste cose perché nessuno ha pregato l'amministrazione di invitarmi è stata la volontà ripeto nello specifico della vicepresidente Flavia Sorrentino e del presidente della commissione sport ma anche di tanti attori istituzionali che c'erano lì che hanno accolto con piacere queste cose però mi auguro poi si traducano in qualcosa di scritto è di operazione di concreto hai ragione hai ragione al telefono vediamo chi c'è pronto buonasera Silvio sono Peppe da Casoria ciao Peppe ben trovato ti ascoltiamo buonasera anche al tuo ospite sta facendo aggiungo solo questa cosa qua sta facendo una grandissima battaglia per gli disabili te lo dice uno che c'è una sorella sulla sedia quindi so non va allo stadio è mia sorella però so che cosa significa avere in famiglia una persona che sta su una carrossina e gli fa onore all'ospite tuo mi ricordo Maurizio Maurizio la battaglia che sta facendo ma la domanda è molto semplice ma è possibile che tutti quei soldi spesi per ristrutturare l'interno nessuno ha mai pensato a queste persone a fargli godere uno spettacolo una cosa normale come una persona normale possibile che adesso hanno stanziato 2 milioni e mezzo di Euro sempre per cose tribune perché così ma bisogna pensare anche alle persone ecco a queste persone che hanno poco però vedi quanti di questi ragazzi su queste sedie a rotella non hanno mai visto il Napoli dice sono uguali a tutti quanti gli altri sono uguali a me uguali a te uguali a Maurizio detto questo sì volevo spettere qualche parola per quanto riguarda la questione Juve la sto seguendo e ho letto un articolo del giornalista Viviani del fatto Corriano dove specifica e fa vedere le cose che effettivamente adesso come stanno vedete l'ha sempre fatto solo che per la prima volta ho visto o almeno quello che ho potuto capire io che questi signori se la potrebbero scappottare un'altra volta e non è giusto non è giusto per i tifosi onesti non è giusto per quelle squadre oneste ne sono poche perché abbiamo visto che ce ne sono altre 6 o 7 che girano nell'orbita 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 Juve ma questo è il quadro quando riguarda le brusvolenze perché loro mi dicono a questo saltate le brusvolenze non possono fare nient'altro Pepe scusami se ti interrompo sei stato molto chiaro lascio subito la risposta a Maurizio perché poi devo liberarlo che ha un altro appuntamento però sei stato chiarissimo e ti ringrazio anche per gli apprezzamenti che hai fatto ti ringrazio a te e volevo dire a Maurizio di battersi ancora di più di come si sta battendo per i disabili ciao ciao Pepe grazie risposta lo sdegno di Ziliani è il nostro sdegno soprattutto per come si comportano i vertici istituzionali della politica e dello sport uno poi il resto lo lascio a te sì è una nostra battaglia che condividiamo giorno per giorno e ci siamo presi i shitstorm non indifferenti parlo di me di te di Paolo Ziliani e di pochi altri la realtà che dobbiamo però avere anche un po' di fiducia nella giustizia perché quando sono cominciate le prime indagini imperava la teoria del taralluccellino bisogna vedere le carte bisogna pensare e sperare che ci sia chi decide di applicare appunto il codice giustizia legge e sentenze come dici tu e nei fatti già è successo tanto e tanto succederà ancora quindi la giustizia farà il suo corso verranno cancellati 15 punti sappiamo che poi la Juve si appella a un vizio di forma e non nella sostanza quindi spera che gli vengano restituti 15 punti non perché non ha commesso nessun tipo di reato ma perché i termini di presentazione del ricorso erano secondo la riflessa diversi quindi un vizio solo di forma procedurale ma poco cambia perché stanno andando avanti altri incartamenti la giustizia ordinaria fa il suo corso sta succedendo qualcosa anche a livello internazionale anche in altri stati europei dobbiamo metterci tutti da una sola parte che è quella della legalità e avere fiducia perché altrimenti non si fa da nessuna parte qualcosa sta succedendo e molto altro ancora succederà io quindi io francamente ho un'idea che la Juve l'anno prossimo non vedrà la Serie A quindi ne sono assolutamente convinto poi chiaramente non ho la palla di vita va beh staremo a vedere intanto ti ringrazio molto Maurizio un abbraccio ti abbraccio forte Silber grazie della tua acuta sensibilità sempre su tutti questi temi ma scherzi grazie a te per l'impegno ciao Maurizio grazie grazie ancora noi ci fermiamo break pubblicitario e poi di rientro l'ultimo blocco con Linea Calcio e abbiamo poco più di sette minuti per lasciare poi la linea a punto centrale Tony Iavarone con i suoi ospiti nello studio centrale di Canale 8 ma parliamo un attimo di palla a nuoto poi andremo al telefono dove c'è Felice in ascolto ma magari questa notizia può valere ecco d'appuntamento anche per il nostro Felice che è appassionato di sport sabato 11 marzo grande appuntamento per il circolo canottieri Napoli che sfida la Rarinantes Florenzia per il secondo posto nel girone sud della 2 32 minuti nei quali l'unico obiettivo deve essere quello di riuscire a conquistare l'intera posta in palio è un incontro di cartello della quindicesima giornata di campionato tra il canottieri Napoli terzo in classifica con 34 punti che alla Scandone riceve la Rarinantes seconda quota 36 i padroni di casa non possono prescindere dalla vittoria se intendono scavalcare in classifica i toscani e mettere così una seria ipoteca sulla conquista del secondo posto che garantisce il vantaggio del fattore campo e un accoppiamento almeno sulla carta più abbordabile nel tabellone dei playoff per la promozione in Serie A1 e a motivare ulteriormente la formazione guidata da Enzo Massa c'è la voglia di riscattare la sconfitta subita all'andata disputata lo scorso 26 novembre alla Nannini di Firenze match nel quale il 7 allenato da Minetti si impose per 6 a 4 al termine di quella che di gran lunga è stata la peggiore prestazione stagionale per Capitan Borrelli e compagni in termini di reti segnate dunque occasione di riscatto nell'appuntamento più importante in questa fase dell'annata per i ragazzi di massa felice ben trovato buonasera ciao ben trovato anche a te hai fatto festa ieri ieri sera mi sono riposato è giusto tre cose veloci vai allora aspettiamo i giudici sulla Juve uno stavolta non possono scapparla l'hanno fatta troppo grossa fuori dal vaso e se scappano stavolta vuol dire che effettivamente mi ce ne indava speriamo di no due grande presidente mamma che presidente che abbiamo guarda lontano e gli altri non lo stanno a sentire mi è piaciuto su due passaggi uno su Clemente Guido Clemente quando ha detto che si toglie l'atletico dubbio che lui portava e gli ha detto chiaramente che lui tifa Napoli e ama Napoli il nonno la nonna di Torra non fiata e lui è nativo di eh eh vicino con i 6 mezzo ma Torrelli da Lombardi eh poi il passaggio sui procuratori è meraviglioso perché gli altri non lo seguono perché non lo capisco fortuna del Napoli perché perché ti ricordi forse ti ricordi quest'estate nel momento nel momento più caldo io rispondevo a tutti state tranquilli mi sento di di dirvi che dovete stare tranquilli per una semplice ragione perché perseguendo i suoi interessi perché è giusto che un imprenditore lo faccia e ci mancherebbe De Laurentiis tutela anche i vostri di tifosi e così è stato S.P.A. E alla fine è stato così e di fatti ti ripeto noi dobbiamo stare tranquilli S.P.A. Montefarcione è sempre più azzurro godiamoci questi meravigliosi momenti il tempo di eserciziare totalmente verrà Pasqua e diamo questi 15 puntagini non ce ne fatti niente diamoci pure 20 25 e basta là S.P.A. ti voglio bene sempre un augurio a tutte le donne meno male che ci stanno chi dice il contrario è un C ciao sai mi sembravi quando hai detto tutte le donne è arrivato Larrotino domani arriva Larrotino dalle parti tue va bene ciao felice ciao un abbraccio auguri alla tua Alba allora sabato si gioca contro l'Atalanta è una partita dalla quale il Napoli attende il riscatto può darsi che poi alla fine Spalletti tuteli un po' risorse fisiche mentali puntando sull'alternanza in alcuni ruoli quelli soliti no perché c'è Zilischi Edelmas c'è Politano e Lozano anche se Lozano oggi ha svolto differenziato per qualche problemino però per il resto ecco se si pensa e si attende il solito Napoli ad eccezione del lato mancino della difesa dove per la squalifica di Mario Ruiz ancora una volta titolare sarà Olivera e poi pensavo ad alta voce lunedì sera nel corso della trasmissione chi giocherà contro l'Aintracht a sinistra sarà la volta di Mario Ruiz di rientro o ancora Olivera in nome della sua maggiore fisicità poi vedremo un impegno alla volta e la massima concentrazione che si deve ad un avversario ostico come l'Atalanta di Gasperini al telefono pronto ah ma voi chiamate in coppia Luigi come va eh sì sì buonasera e auguri a tutte le donne bene allora io sono un po' polemico stasera ma come va perché perché per quanto riguarda la faccenda delle bandierine a San Paolo ecco ecco allora io devo dire una cosa chi è che ha messo questa cosa che a Napoli non possono entrare le bandierine quando in tutti gli stati ieri a Roma pareva carnevale come pure almeazza perché fanno questo solo a noi allora io dico una cosa ho il prefetto il questore il sindaco di Napoli secondo me ce l'hanno con Napoli perché solo loro possono fare queste cose e nessun altro ah io spero che questa faccenda qua finisce una volta e per sempre perché perché ce l'hanno se ce l'hanno con Napoli qualcuno lo deve sempre dire ah che fa adesso la Juens gli vogliono dare pure i 15 punti e questo è lo schifo del calcio italiano ah va bene va bene io sono convinto che in quel giorno noi facciamo festa e poi vedrò quei signorini che andranno in che e p andranno a molti venti a piedi eh una bella una bella passeggiata Luigi va bene un abbraccio fortissimo e a noi non ci accere nessuno e non i rubandini mai ciao ciao Luigi ciao grazie io sono d'accordo con Maurizio Zaccone fiducia nella giustizia fiducia nella giustizia mi fermo qui lasciando linea e microfono a Tony Gavarone studio centrale di Canale 8 per Punto Centrale noi ci vediamo domani sera ciao